Ecco, siamo qui per parlare dei temi concreti di una regione che ha grandi potenzialità e che invece oggi drammaticamente è la regione che ha la minore ripresa di tutto il sud Italia, quando qualche anno fa era l'esatto contrario. Perché questa è una regione che avrebbe delle grandi opportunità occupazionali e che invece continua a vedere i suoi giovani scappare, noi parliamo di questo. L'emergenza ambientale a Montesilvano, alla foce del fiume Saline, è lo spunto per Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, per ufficializzare la candidatura del senatore Marco Marsilio alla presidenza della regione Abruzzo per il centrodestra. E' davvero per noi, insomma, è un grande orgoglio poter esprimere una candidatura come quella di Marco. Marco è un puro sangue abruzzese e questo va ricordato, è un'abruzzese da generazioni ed è figlio di una famiglia abruzzese che ha fatto la scelta drammatica che hanno dovuto fare tante altre famiglie abruzzese. E cioè trasferirsi in un'altra città perché qui non c'erano opportunità e non c'era lavoro. Oggi è una persona che decide di fare il viaggio inverso, non era scontato, noi abbiamo avuto un presidente della regione che non ha neanche finito il suo mandato per andarsi a sedere su una comoda poltrona da senatore e oggi abbiamo una persona già seduta su una comoda poltrona da senatore che decide invece di venirsi a occupare della sua terra. E penso che la sua esperienza e la sua conoscenza anche dei palazzi romani possa rappresentare un valore aggiunto per questo territorio. Non è un caso se oggi il ministro Toninelli sta prendendo in considerazione l'ipotesi di discutere l'aumento dei pedaggi dell'A24 e dell'A25 sulla base di una proposta di emendamento fatta da Fratelli d'Italia e segnatamente dal senatore Marsilio. Non è un caso se abbiamo vinto la battaglia per non spostare la fermata del capolinea dei pullman dall'Abruzzo verso Roma, da Tiburtina ad Anagnina. Sono tutte proposte fatte per l'Abruzzo da persone che sanno come muoversi nei palazzi e che conoscono i problemi. Alla presenza degli amministratori eletti di Fratelli d'Italia e di sostenitori politici, Giorgia Meloni auspica inoltre che il centrodestra e le civiche si ricompattino unite sulla candidatura di Marsilio. Il centrodestra è tradizionale, i tre partiti si sono già ricompattati, c'è l'Udc che anche ci dà una mano, che qui ha una presenza importante. Spero che si possa terminare questo lavoro anche con le varie esperienze civiche di centrodestra che ci sono. Tutti sanno che qui si può restituire un futuro diverso a questa regione, che il centrodestra può vincere. Il centrodestra è già unito e molto ampio. Colgo l'occasione per continuare a rivolgere un appello anche a Fabrizio Di Stefano e ai suoi amici perché scelgano di far parte di questa squadra di governo che renderà l'Abruzzo una regione migliore. La sua esperienza e il suo radicamento sono importanti e io spero di poterlo avere al mio fianco e che non voglia fare invece una scelta di marginalizzazione o addirittura una scelta contraria alla sua storia e alla sua cultura politica.